Nella notte tra venerdì e sabato, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Trieste, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato LM, disoccupato, 28enne nato in Brasile, ma con cittadinanza italiana e residente a Trieste. I militari dell'arma intervenuti nella via Curiel intorno alle 23.30 di venerdì a seguito di una chiamata di routine per la presenza di un uomo molesto, si sono trovati di fronte il giovane già noto alle forze dell'ordine, il quale in evidente stato di agitazione stava minacciando di morte il fratellastro cercando ripetutamente di colpirlo. I due carabinieri non hanno potuto fra l'altro che frapporsi fra l'aggressore e la vittima, diventando così bersagli della violenza di LM, che in tutti i modi opponeva resistenza per sottrarsi all'identificazione e all'eventuale conseguente arresto. I militari sono comunque riusciti ad avere la meglio, immobilizzando l'uomo e riportandolo a piumiti consigli. Prima di essere trasportato presso il comando di via dell'Istria, il giovane è stato perquisito e dal marsupio che portava addosso è saltato fuori un coltello a serramanico di genere proibito che è stato immediatamente sequestrato. Completata la ricostruzione dei fatti all'aggressore sono stati contestati i reati di minaccia, lesioni, porto di armi a impropria senza giustificato motivo e resistenza a pubblico ufficiale e condotto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica.